Non potevo iniziare meglio la giornata nell'acqua park più famoso al mondo, più grande del mondo, più bello del mondo, così dicono, lo vedremo, sto cagando, iscrivetevi al canale Ma quello è assurdo, ma è bella? Porca vacca raga Raga quello è lo scivolo più pericoloso del mondo, cioè ci muoiono 18 persone al giorno Quanta fatica ci vorrà per arrivare Ci troviamo alla città perduta, qui in media si perdono 100 persone al giorno e non sono mai state ritrovate Ma ovviamente sti gran c***o degli scivoli più assurdi del mondo perché noi rimorcheremo anche quel drago, rimorcheremo tutto Rimorcheremo ogni cosa che respira all'interno di questo parco Anche i pesci, è incominciato da te, ti piacciono gli uccelli vero? Sembra la coda ma in realtà è il pene È lunghissimo, sono una cosa che non so un c***o di spagnolo, quindi ci sarà da divertirsi oggi Pensate che quale file vanno avanti dal 2019, è tre anni che sono in fila queste persone Non si nutrono, vivono di sole e speranze Lo scivolo più lento del mondo Possiamo fare una challenge Peso O Cosentata Kiss o Slump Sì Yes Primo bacio e secondo schiaffo Posso avere il vostro numero? Sì Ok Non so dove scriverlo Thank you So, we will see tonight Sera, ci vediamo? Yes Oh mio dio, oh mio dio quanto mi piace questo video, oh mio dio, sì, sì, è stato bellissimo Hai visto Aka? Aka? Sorry, hai visto Aka? Hai visto Aka? Aka che sta Fra, è sparito Dobbiamo trovare un lifeguard Hola chica, a challenge Kiss o Slap? Slap Come on Sono Fabi J Besito Che Fabi J, io ti riconosco Porco su Sei italiana Siamo insieme a? Già Io sono Fabi J Ma mi puoi chiamare King Ash Bacio o Schiaffo? Schiaffo No, ho sentito no I love you Ma cosa ne pensi del corsivo italiano? Ok, è una merda, grazie No, no Say hi Hi Besito O Vopetada? Come on Preferite il corsivo italiano? Non c'era Corsivo italiano, è famoso Moda Mamma moda L'ha lanciata Chiara Ferragni Chiara Ferragni Fedez? Sì Fedez È mio fratello Ciao Fedez Siamo nel 2050 Siamo nel 2050 ed è arrivato il momento di fare un gioco The Giant E praticamente qui Rocco Siffredi non potrebbe fare lo scivolo perché la lunghezza non gli è consentita Rocco non puoi esserci Alle ragazze piace il pesce? Bacio o Schiaffo? Beso o Bafetada? Give me five Forza Spagna Forza Italia Love you Se esce una tipa vi scrivete Attenzione È effettivamente una tipa E ha fatto una tetto plastica E lui dovrebbe farsi una tetto plastica H H H H Allora regà Missione per trovare H Adesso troviamo un bagnino Gli diciamo che abbiamo perso il nostro fratellino E proviamo a parlare al microfono Per tutto il Siam Park H guarda cosa stiamo facendo per te Solo per te fra Aspè può essere che lì troviamo qualche like card vicino per bambini Sorry I lost my little brother I don't have a phone I don't have nothing How we can do Is there a speaker? Like a speaker Which language do you speak? Italian Italian Potete parlarmi in italiano Ah eh Come Non abbiamo né telefono nulla Dove l'avete perso? Allora eravamo in la Quello di che viene già così Abbiamo fatto la fila A quel punto Ma un microfono non c'è No non c'è Qua non c'è un microfono Che si fa la Potete descrivermi il vostro fratello Come Federico Abbiamo capito Grazie a Il nostro fratellino è uno H sei alto 1.83 Eccolo H Ciao H Finalmente ti abbiamo trovato Ah no scusami H Attenzione che giro Guardo qui se siete qua e non mi trovo Missione compiuta Grazie a tutti Grazie a tutti Oh che male Insomma hanno spaccato l'orecchio Però per la fica questo e altro Raga chiedo solamente un like per il prossimo video Che lo metto io Kiss o slap? Slap Slap Kiss di Fedez Vale 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 Really? Sì Sì Sei 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 Die I love you so much Fedez I love you so much Vai c***o da muschio selvaggio Questo qui è quello che succede quando fai una cagata immensa e non va giù l'acqua nello sacquone C'è la stessa cosa È arrivato il momento di fare un altro gioco Sono in fila da due mesi e le cose sembrano andare ancora per le lunghe Comunque da muschio selvaggio a mucchio selvaggio è un attimo Ma la smettete di ammucchiarvi? Kiss or slap? Sì Your turn? Oh mio Vieni Tonight I'll see you tonight Triplet Incredibile Ma che c***o Sono solo regà Sono tipo Casanova Oh Raga te la lancio io la sfida Quella signora lì 50 euro se ti dà un kiss 20 euro se ti dà uno slap Accetto Quindi vai per il kiss Potrebbe essere anche sposata Let's go Would you like to slap Or kiss Come perdere 50 euro Anzi Perdere proprio Ma ne valsa la pena Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima